Fabrizio Impedula, segretario dell'FC Ponsac 1920, ultimi quattro anni, tre finali, tre vittorie. Sì, sono stati tre successi importanti, penso che siano il frutto della professionalità della gestione del presidente Massimo Donati e del direttore sportivo Andrea Luperini. Si è sempre lavorato con serietà, con la massima precisione e attenzione in tutto e questi sono i risultati che quando si fa un lavoro di questo livello penso che ci meritiamo sicuramente. Tu che eri a PISSC lo scorso anno, avere accanto alla squadra un pubblico così come oggi, circa 250 persone, gratifica ancora di più il lavoro che viene svolto? Certamente, la riferenza principale è questa qui, è una piazza, una cittadina a cui il pallone piace e quindi è una soddisfazione poter lavorare anche per queste persone. A Pisa Sporting Club questo mancava, quindi penso che la soddisfazione della società, del presidente Massimo Donati sia soprattutto questa. Guarda tu come vedi il finale di stagione, saranno tre mesi importanti? Sì, bisogna stare molto attenti perché non bisogna dare niente per scontato, quando si gioca di mercoledì e di domenica, quello che può sembrare facile perché la squadra è forte in realtà è difficile, quindi bisogna rimanere concentrati e ognuno deve fare il suo perché non è niente scontato, questo è chiaro.